Ho cercato come le punizioni precedenti di calciare verso la porta in maniera che magari qualcuno la toccasse, però questa qua non ha toccato nessuno, è andato dentro e come hai detto te prima, essendo di seconda era da annullare. Era importante interrompere questa serie negativa e continuare a muovere la classifica. Adesso domenica ci aspetta un'altra partita fondamentale contro la Ternana che può farci capire dove vogliamo arrivare, dove possiamo arrivare. Il direttore e la società ci hanno anche tutelato sotto l'aspetto economico, nel senso che i contratti pluriennali verranno rispettati, anche se loro hanno detto che se noi l'anno prossimo non ci siamo più i contratti verranno rispettati, però l'ideale sarebbe che voi trovate una squadra, poi se voi prendete 10 e la squadra dove andate vi dà 7, la differenza ve la diamo noi, quindi ci hanno sempre tranquillizzato sotto l'aspetto lì. Però io resto dell'idea che la speranza è quella che un finale di campionato positivo possa far cambiare la loro idea.